Ora si sono appena concluse le operazioni elettorali ed è stata un'elezione, le elezioni di quest'anno sono state particolarmente complesse, però la macchina, la macchina dello Stato ha fatto fronte a tutte le difficoltà, nonostante il Covid-19 diciamo che si sono svolte in tutta sicurezza. E' stata una prova molto impegnativa per tutti noi e io mi sento di ringraziare tutte le istituzioni, le prefetture, i comuni, gli scrutatori, i presidenti di seggio, le forze di polizia e la parte anche del volontariato della protezione civile che ci ha aiutato soprattutto per la parte relativa al voto da raccogliere in casa per coloro che erano in quarantena. Le operazioni di voto si sono svolte in tutte le 61.622 sezioni ordinarie. Abbiamo le sezioni ospedaliere, circa 200 e poi seggi speciali che hanno raccolto a domicilio il voto e abbiamo avuto circa 3.097 richieste di poter votare a casa. Per coloro che erano in trattamento domiciliare, in quarantena o in isolamento fiduciario. Non hanno votato per le comunali, questo tengo a dirlo perché ho letto qualche polemica su questo aspetto, gli elettori iscritti nelle sezioni ospedaliere ricadenti in un comune diverso da quello di residenza dell'elettore stesso. Questo ricade in una previsione normativa risalente al 1960. D'altra parte, sui numeri che vi ho detto prima, soltanto 224 votanti su un corpo elettorale di 5.700.000 circa non ha votato per le comunali perché invece è da precisare che hanno potuto votare sia per il referendum che per le regionali. Per le sezioni ospedaliere noi abbiamo, tramite il commissario Arcuri, abbiamo rifornito coloro che dovevano andare a prendere il voto in casa 100.000 camici monouso, 200.000 guanti monouso, 30.000 mascherine chirurgiche, 4.000 mascherine filtranti, 2.000 visiere. Anche su questo voglio chiarire che le regioni, in base ad un accordo che è stato fatto con il commissario Arcuri, hanno anticipato il materiale che poi verrà rifornito successivamente da Arcuri, proprio in base a questo accordo. E quindi per tutto ciò per fare prima, soprattutto, ma anche dopo aver accertato che ci fossero tutte le richieste pronte da parte delle regioni in modo da poter restituire quello che effettivamente era stato utilizzato. Con riferimento ai seggi ordinari, le prefetture hanno distribuito 15 milioni di mascherine, 3 milioni di guanti, 300.000 litri di gel igienizzante. Sono stati 465 i comuni, per un totale di 1.453 sezioni elettorali, che hanno risposto alla richiesta che era partita dal Viminale di trovare dei seggi alternativi alle sedi scolastiche. D'altra parte, quindi, voglio dire che a questo proposito abbiamo avviato un tavolo di lavoro perché quanto prima si vada avanti su questa strada, in modo da evitare effettivamente che si debba votare necessariamente nelle strutture scolastiche. I comuni che hanno votato sono stati 1.179, di cui 155 con una popolazione superiore a 15.000 abitanti e 1.024 inferiore a 15.000 abitanti. Per questo sforzo capillare, quindi devo dire che abbiamo garantito il diritto di voto a tutti gli italiani ed è stato un grande servizio che abbiamo fatto al Paese.